Grazie a tutti. E' membro della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo e in ultimo è agronomo. Quindi quando l'ho sentito quella volta ho avuto la netta impressione di una persona molto preparata e che essendo anche dentro le dinamiche dell'Unione Europea con un approccio da agronomo, da tecnico può aiutarsi molto a capire l'oggetto del tema che adesso sto per dire. Concludo solo dicendo che siamo collegati e tutte le varie iscrizioni che abbiamo ricevuto sono tutti di operatore del settore, o del mondo dell'agricoltura o anche in particolare della filiera lattiero-cagearia. Quindi adesso passo subito la parola all'Onorevole rifocalizzando il tema, cioè a noi interessa conoscere se ci può aiutare Onorevole a conoscere e capire meglio qual è la visione, qual è il focus della sostenibilità dell'Unione Europea all'interno di questo momento molto importante anche di programmazione si sente parlare di Green Deal, di Fun2Fork, di PAC Post 2020, della nuova azienda dei consumatori, del periodo di transizione della PAC, quindi di argomenti sul tavolo, ce ne sono tanti, di strumenti, di regolamenti, di cose che stanno per accadere, il tema è rispetto alla sostenibilità qual è la visione dell'Unione Europea e cosa possiamo aspettarci nei prossimi anni. Onorevole passo la parola a lei, è liberissimo si intende anche nel tempo che vuole. Il taglio è una riunione molto veloce, informale, non veloce, è molto dinamica, non è un convegno, c'è la parola, poi ci sarà la possibilità di fare delle domande, è registrata e quindi poi sarà possibile rivederla, ci sarà della documentazione. Adesso è un po' come se fossimo tutti in una sala, in una saletta, a vederci in faccia e a ragionare, a parlare di queste cose. Grazie ancora Onorevole, le passo la parola. Buongiorno a tutti, grazie per questa occasione, scusate per il problema tecnico di prima, anche dopo un anno di esperienza con queste piattaforme qualche problema qualche volta c'è, però io d'altronde ritengo questa tecnologia anche affascinante perché crea comunque la possibilità di incontrarci senza perdere tempo per viaggi, anche incontrarci quando altrimenti non sarebbe possibile, quindi anche del buono. Comunque, Gian Paolo Bilato mi ha detto che devo essere il più concreto possibile, ciò nonostante devo fare un po' un'introduzione perché io penso che quando parliamo di sostenibilità e di tutto questo argomento che è diventato forse l'argomento principe qui a Bruxelles, bisogna ambientarlo diciamo un po' in un ambiente un po' un discorso un po' più generalizzato. Questa commissione, la commissione guidata da Ursula von der Leyen, è partita ormai un anno e mezzo fa mettendo la questione della sostenibilità nel centro della propria azione politica, proprio anche nel discorso inaugurale, nel discorso programmatico di governo che la Presidente von der Leyen ha fatto in Parlamento, lei ha sottolineato l'importanza della sostenibilità, poi che poi a Bruxelles ha preso il nome di New Green Deal o Green Deal come elemento chiave per l'azione politica nei prossimi anni. Questo ha sottolineato anche dal fatto che il primo Vice Presidente, Acting Vice President della Commissione Europea, Franz Timmermans, è responsabile per l'attuazione di questo Green Deal, quindi l'argomento ambientato, devo dire in questo caso, qui faccio una valutazione politica purtroppo, vedendo quello che buon Franz Timmermans sta facendo, a un livello molto alto e quindi l'agricoltura è solo parte di questa azione politica che va molto oltre e che vuole trasformare questo continente o comunque l'Unione Europea in una zona sostenibile, chiaramente con un obiettivo anche chiaro che nel frattempo è stato anche trasformato in lenge, che è di raggiungere una neutralità climatica entro il 2050 e di ridurre l'emissione di CO2 o comunque di gas aerea del 55% entro il 2030. Per fare questo servono tutta una serie di iniziative che chiaramente stanno gran parte al di fuori dell'agricoltura, quindi nuove tecnologie, un'industria sostenibile, un traffico sostenibile, il trasporto sostenibile e questo interessa anche quasi tutti i settori della nostra economia, dal traffico alla produzione di energie, quindi uscita dal carbonio, uscita dal petrolio, dove il gas naturale rimarrà a lungo una bridge technology, quindi una tecnologia di ponte, gli edifici, l'industria dell'acciaio, l'industria del cemento, l'industria del tessile, della chimica, e quindi l'intera gamma della produzione europea. E quindi la Commissione subito dopo questa decisione politica ha fatto un piano d'azione, possiamo dire, per realizzare questo Green Deal, mettendo in piedi 50 iniziative che sono da attuare entro il 2050. E di queste 50 iniziative tre interessano particolarmente l'agricoltura. E sono tre strategie che ormai anche Gian Paolo prima ha nominato, almeno in parte, e la strategia Farm to Fork, quindi dall'azienda al consumatore, e la strategia sulla biodiversità. Queste due strategie sono state presentate nel maggio dell'anno scorso e stiamo aspettando l'ultima strategia, o la terza, il terzo piano d'azione, che è la strategia forestale, che forse a voi interessa meno, perché state lavorando non nell'ambito forestale, ma nell'ambito dell'agricoltura. Io voglio sottolineare che queste strategie sono strategie, non sono leggi. strategie. Sono strategie, anche se oggi qualcuno in Commissione fa finta come se fossero leggi. Però queste strategie sono state scritte dalla Commissione europea, quindi dal nostro governo, e non sono mai state sottoposte al legislatore. Quindi non c'è un voto del Parlamento europeo o del Consiglio su queste strategie. Noi in Parlamento faremo un report, un initiative report, quindi una nostra valutazione sulla strategia. Come lo ha fatto già il Consiglio, e in Parlamento io sono uno dei due relatori, perché lo facciamo insieme a Commissione agricoltura e Commissione ambienti. Io sono responsabile per la parte agricola, possiamo dire così. La mia collega Ania Hasikamp è responsabile per il settore ambiente. Solo successivamente queste strategie, sia la farm to fork, soprattutto la farm to fork, ma anche la strategia sulla biodiversità, trovano a essere trasformate in legge. Con varie iniziative che sulla strategia c'è già. Sono più di 25 iniziative che la Commissione propone per trasformare la strategia farm to fork in legge. Ed è chiaro che quando trasforma in legge, quindi in direttive e regolamenti, queste saranno valutate dal Parlamento e dal Consiglio. Quindi entrano i legislatori dell'Unione Europea e noi diremo la nostra. Però per esempio, poi entrerò più nell'Italia nella riforma della politica agricola e comune che stiamo valutando, dove siamo nell'ultima fase di delibera, con i cosiddetti triloghi insieme con il Consiglio, quindi cercando di trovare un accordo tra Parlamento e Consiglio, c'era una forte pressione affinché alcuni contenuti della strategia farm to fork entrino nella riforma della PAC, dove noi, anche noi come Partito Popolare Europeo, abbiamo detto di no perché non si può trasformare in legge qualcosa, qualcosa, o non si può citare o fare riferimento in una legge e la PAC che legge qualcosa che non è legge. Quindi prima di che tutte queste iniziative che sono descritte nella farm to fork diventino veramente legge sul territorio, devono essere trasformate in legge. Questo è importante perché sennò a volte si fa finta come se questa fosse tutta roba accordata tra i collegi statori. Bene, quindi io farei una prima riflessione sulla strategia farm to fork per poi andare alla riforma della politica agricola. Però prima di dire questo forse alcune riflessioni sul ruolo dell'agricoltura quando parliamo di sostenibilità, soprattutto di cambiamento climatico. È chiaro che, ed è inutile negarlo, l'agricoltura quando si parla di cambiamento climatico, di emissioni di gas serra, l'agricoltura ha un ruolo. Però se io leggo spesso degli articoli anche di chi vuole, ce ne sono tanti, di chi vuole mettere nell'angolo dell'accusato l'agricoltura, questo ruolo è limitato al 10% delle emissioni di gas serra in Europa, cioè nell'Unione Europea, l'agricoltura è responsabile del poco meno del 9,8% delle emissioni di gas serra. Quindi è chiaramente ha un ruolo, però non è, se confrontiamo il ruolo o la responsabilità che ha per esempio il traffico, è tutta un'altra dimensione. In realtà però forse meno interessante per voi, perché voi lavorate con animali, più o meno il 60% di queste emissioni derivano direttamente dal settore di allevamento di animali. Quindi più o meno metà di questi 10% derivano dall'emissione di metano dal processo di fermentazione enterica, quindi degli animali stessi un altro 10% dalla gestione dei reflui. Quindi il ruolo dell'allevamento è, se vediamo, tutta l'agricoltura relativamente alto. Però bisogna anche dire che le emissioni da parte dell'agricoltura scendono dal 1990, quindi non aumentano, perché c'è l'unico settore oggi in Europa dove le emissioni di gas serra continuano ad aumentare è il traffico, mentre nell'industria, nel riscaldamento delle case e nell'agricoltura, che sono gli altri tre grandi responsabili, se vogliamo dire così, scendono. E poi l'agricoltura, a mio avviso, ha un ruolo aggiuntivo, una situazione aggiuntiva che spesso viene sottovalutata o non ammessa. Se noi vediamo tutti i settori dove vengono emessi gas serra, quindi traffico, industria, riscaldamento, produzione di energia e così via, in tutti gli altri settori la questione è solo quanto si può ridurre. Cioè se io trasporto un prodotto da A a B o mi sposto io da casa mia a Bruxelles, io posso riflettere come posso emettere meno, però non avrò mai un contributo positivo all'emissione di gas serra. Cioè non riesco facendo traffico ad assorbire il CO2, posso emettere meno, come nell'industria posso emettere meno. L'agricoltura è sostanzialmente l'unico settore che emette e può assorbire, può fare tutte e due le cose. E spesso io penso in tutto il dibattito che abbiamo sul cambiamento climatico, sull'emissione di CO2 soprattutto, ci dimentichiamo che questo pianeta è in un equilibrio messo un po' in difficoltà dalla nostra attività dell'uomo, però è da sempre in equilibrio tra l'emissione di CO2 e la trasformazione di CO2 o l'assorbimento di CO2 e la produzione di ossigeno che viene fatto con la fotosintesi. Se non ci fosse la fotosintesi noi saremmo già tutti via da questo pianeta e la fotosintesi che è responsabile per un ciclo che spesso in tutto questo dibattito è semplicemente non se ne parla. E dove c'è agricoltura crescono piante, dove crescono piante c'è fotosintesi. Quindi c'è un assorbimento da parte dei campi nostri e poi c'è un altro fattore che secondo me dobbiamo riflettere di più e io sarei anche, anche se l'idea è qui a Poxel, Gianpaolo Bilato mi ha detto come facciamo a farci pagare l'assorbimento, le idee sono ancora molto vaghe su questo, però una vera possibilità di assorbimento perché per farla per essere un po' non voglio essere troppo lungo, però se io ho un campo di mais e poi la vacca mi mangia il mais, è chiaro che questo carbonio che è il campo di mais mi sequestra va subito in un ciclo, cioè viene poi alla fine l'uomo si mangia il formaggio e emette di nuovo la CO2 che è stata sequestrata dal mais. Sarebbe cosa diversa se riuscissimo ad aumentare il contenuto di humus nel terreno, cioè abbiamo avuto purtroppo soprattutto nei campi arattivi negli ultimi decenni una perdita di humus non indifferente, un aumento di humus, un'attività che porta un aumento di humus nei terreni, quindi attività agricole che comportano un aumento di humus sarebbe di per sé avvantaggio degli agricoltori perché rende terreni più fertili e dall'altra parte darebbe un contributo importantissimo al sequestro di CO2 e secondo me dobbiamo cominciare a pensare come ci facciamo pagare queste cose, cioè dobbiamo cominciare a pensare come un eventuale sequestro di CO2 da parte di campi, da parte di foreste ed altro entrano in un sistema che oggi abbiamo già in industria dove abbiamo l'emission trading system e quindi chi emette paga e secondo me sarebbe giusto dire chi emette paga, chi sequestra riceve, perché solo così si crea un sistema attrattivo diciamo per emettere meno e assorbire di più. Beh l'ho fatto un po' lunga, detto questo andiamo sulla strategia farm to fork. la strategia farm to fork secondo me è di per sé un'idea buona, almeno da me condivisa, cioè l'idea di dire un'Unione Europea che da decenni, da più di 60 anni, quasi 70 anni adesso, tra due anni nel 2022 avremo 70 anni dell'inizio della politica agricola comune dell'Unione Europea che è iniziata nel 62, forse è utile vedere l'attività politica di azione dell'Unione Europea non solo in un ambito agricolo ma in un ambito più largo, cioè guardando alla catena alimentare dall'agricoltore fino al consumatore finale. Questo mi sembra un approccio giusto anche perché già in tanti altri settori dell'Unione Europea ha comunque un ruolo, se pensiamo alla sicurezza alimentare, all'etichettatura, alla tutela del consumatore, quindi non è che l'Unione Europea fino adesso si è occupato solo di agricoltura e le altre cose ha lasciato a parte, però vedere queste cose in una maniera un po' completa e vedere anche le margine o le possibilità di sostenibilità in questa catena mi sembra di passare un approccio del tutto condivisibile. Quindi cercare anche di avere una distribuzione giusta del plus valore lungo la catena, dopo abbiamo visto negli ultimi anni una continua diminuazione della parte agricola, un continuo aumento di tutti gli altri settori, quindi la trasformazione della distribuzione soprattutto, anche pensando a un'alimentazione non solo più sostenibile, ma più sana, più equilibrata, anche qui non dobbiamo comunque ammettere che la percentuale di persone obese in Europa aumenta e oggi, per fortuna, non lo so, l'obesità è un problema molto più grave, un problema di salute molto più grave della mancanza di prodotti alimentari, io ritengo che sia un grande risultato anche degli agricoltori e dell'industria alimentare che oggi è sostanzialmente la prima generazione che ha mai vissuto in Europa dove non c'è più un problema di salute per mancanza di alimenti, ma c'è più un problema di troppe calorie che noi tutti ci mangiamo e ci prendiamo, però anche questo può essere attrezzato vedendo cosa manciamo, come manciamo, come funziona la catena. C'è un crescente market share del biologico, c'è la questione del locale, dell'indicato di origine, la gente vuole sapere da dove deriva il prodotto che mangia, c'è una preoccupazione crescente per quanto riguarda il benessere animale, quindi tutte queste questioni che giustamente secondo me possono essere adressate e viste nel suo insieme. Quando andiamo poi però a vedere cosa la strategia veramente dice, sostanzialmente la strategia diventa molto concreta, soprattutto su questi argomenti che voi probabilmente conoscete perché ormai sono sufficientemente sui media, la strategia dice che dobbiamo diminuire del 50% l'uso dei pesticidi, prodotti antipersitari fino al 2030, dobbiamo diminuire la perdita di fertilizzanti dai terreni che vanno a finire nelle falde del 50% e dobbiamo diminuire l'utilizzo di fertilizzanti minerali del 20% in totale entro il 2030, dobbiamo diminuire del 50% l'uso di antibiotici, portare il biologico al 25% della superficie, diminuire il food waste perdita, lo spreco alimentare, scusate, confondo un po' con le dinte, del 50%, se vediamo tutto questo, tutti questi sono indicatori farm, cioè la diminuzione di pesticidi, la diminuzione di fertilizzanti, la diminuzione di antibiotici, la percentuale di terreno destinato al biologico, sono tutti indicatori farm, non sono indicatori FOC, quindi nonostante, a mio avviso, e questa è la critica che io faccio alla strategia, nonostante il giusto tentativo di avvertire la catena, alimentare nel suo insieme, però alla fine se si legge la strategia, rimane comunque molto ancorata nel settore dell'agricoltura, e rimane un po' e sono un po' cattivo, perché a volte come politico bisogna essere anche un po' cattivi, rimane un po' questa strana idea che qui qualcuno fa una strategia per controllare la politica agricola da fuori, cioè per togliere la competenza per la gestione della politica agricola all'ambiente prettamente agricolo e portarlo verso altri settori, verso altre responsabilità all'interno della Commissione, e qui rientra il buon Franz Timmermans, vicepresidente della Commissione, che vorrebbe sostanzialmente controllare la politica agricola, e lo vediamo anche in Parlamento, dove la Commissione Ambiente, sempre di più anche con la scusa della strategia Farm to Fox, si mette nella stretta politica agricola, dicendo che la politica agricola è anche una politica ambientale, o soprattutto una politica ambientale, e questo a mio avviso diventa pericoloso, perché a mio avviso la sostenibilità va bene, è necessaria, però la sostenibilità, se vediamo l'azienda agricola e l'attività agricola, che è alla base anche della sicurezza alimentare e della disponibilità dei prodotti alimentari in Europa, va bene solo se troviamo un giusto equilibrio tra sostenibilità in termini ambientali e sostenibilità economica, cioè non dobbiamo rischiare con tutto questo la sostenibilità economica dell'attività agricola, e qui c'è un po' troppa gente che la sostenibilità economica non la vede proprio, e a mio avviso c'è un altro fatto, sarebbe stato facile o sarebbe facile a mio avviso inventare, e inventare, ponerci anche degli obiettivi FOC, ho detto prima che purtroppo abbiamo una crescente obesità in Europa, purtroppo soprattutto anche tra bambini, perché se parliamo di alimentazione non ci poniamo per esempio l'obiettivo, adesso sparo, però dire la percentuale di bambini obesi deve diminuire del 10%, o diventa ancora più concreto, se pensiamo che il 25% della superficie deve essere biologico, perché non ci poniamo anche l'obiettivo che il 20% del mercato deve essere biologico, per esempio, perché solo se questi prodotti, e io sono favorevole al biologico, anzi non c'è niente contro il biologico, però io sono altrettanto convinto che il biologico avrà successo solo se c'è un mercato, e se noi non facciamo capire al consumatore, che solo se anche lui agisce e contribuisce a questa trasformazione, ponendo anche chiari obiettivi per lui, tutto questo avrà successo, perché se noi andiamo avanti, e sono stato proprio ieri in un incontro, se andiamo avanti ad avere per esempio un prodotto che è molto caro alla mia provincia, quindi le mele, se andiamo avanti ad avere 5-6% del mercato del biologico, e vogliamo 25% della superficie, questo diventa un disastro prima di tutto per chi fa un biologico, perché ci sarebbe una sovrapproduzione del biologico che il mercato non assorbe più, e voi sapete meglio di me cosa succede se un mercato non assorbe più un prodotto, scende il prezzo, quindi qui mi aspetterei una visione un po' più orientata al mercato, anche perché io penso che noi dobbiamo, se parliamo di una cantina alimentare sostenibile, dobbiamo sottolineare la responsabilità del consumatore, il consumatore oggi, quando va al supermercato, con ogni prodotto che mette nel suo carello, prende una decisione, e decide lui sulla sostenibilità, però noi di consumatori ne abbiamo un po' troppi, che sulla strada, quando qualcuno chiede, dicono che vogliono il prodotto locale, etichettato bene, più sostenibile, del biologico, whatever, quando vanno al supermercato, tutte queste belle idee, spariscono, molto molto velocemente, e sono alla ricerca del pago uno e prendo tre, e questo non funziona, io penso che oggi, una alimentazione equilibrata, sana, il supermercato offre tantissime possibilità, e noi dobbiamo farla finita, con quello che qui sono un po' duro, con i miei colleghi dei Verdi, questo continuo attacco a dire che i prodotti alimentari in Europa non sono sani, scusate il termine, siamo tra di noi, è una palla, noi abbiamo un livello di sicurezza alimentare altissimo, e tra l'altro esportiamo i nostri prodotti anche perché è così, il problema è che tanti consumatori non si nutriscono in maniera molto sana, perché scelgono diete squilibrate, e che noi politicamente dobbiamo riflettere come adressare questo, e come portare il consumatore sulle scelte più equilibrate, mi sembra più che giusto, poi magari nell'ultima parte mi dirò due o tre cose su questo. Una o due riflessioni ancora sulla Farm to Fork, poi vado veramente sulla PAC, io penso anche che questi obiettivi, che forse per una strategia vanno anche bene, perché la strategia deve essere forse anche un po' superficiale, però quando andiamo sul concreto, se parliamo di diminuzione di antibiotici, che per esempio a voi interessa tanto, perché siete lavorati nel settore della zootecnia, o alla diminuzione di prodotti fitoparasitani sanitari, bisogna anche vedere dove si è arrivati oggi, qual è il punto di partenza, e noi andiamo per esempio classico degli antibiotici, noi abbiamo paesi in Europa, stati membri che negli ultimi anni hanno avuto una drammatica diminuzione dell'uso di antibiotici, e noi abbiamo ancora oggi, anche se nessuno lo ammette, però abbiamo ancora oggi un uso in alcuni stati membri, e su alcuni settori che adesso non è il vostro settore, non sono le vacche, mi rendo conto, sono altre produzioni di carni, abbiamo ancora un uso proprio vertico di massa di prodotti antibiotici, e che questa la dobbiamo finire, mi sembra che siamo tutti d'accordo, però dobbiamo vedere a che punto siamo arrivati, perché se siamo arrivati a un punto dove, diciamo, l'antibiotico viene utilizzato veramente per quello che serve, che dobbiamo diminuire? Se una vacca si ammala, dobbiamo dire, beh, dobbiamo diminuire del 50%, quindi su due che si ammala, facciamo morire una, o la mastite lasciamo andare avanti su una, trattiamo solo l'altra, è ridicolo, quindi è più utile dire, vediamo gli stati membri che hanno avuto successo, vediamo come hanno fatto, e come si esce veramente quando si parla di polame, per esempio, di produzione di broiler, di uova, qual è la via per evitare un uso proprio vertico di massa di antibiotici, e cerchiamo di implementare questo anche in altri stati, quindi dobbiamo diventare un po' più scientifici, e poi io penso che tutto questo si raggiunge solo andando in avanti, qui c'è a volte una visione anche in politica, sempre di più, purtroppo vedo, probabilmente lo vedete anche voi, una visione un po' buccolica dell'agricoltura, urbana, gente che di agricoltura sa poco, vede la televisione, legge le riviste di un'agricoltura, diciamo, di vecchi tempi, e crede che si possa andare avanti, migliorare tornando indietro, io non credo in questo, io penso che dobbiamo utilizzare tutte le tecnologie oggi a disposizione, e noi dobbiamo inventare nuove, e per quello, giustamente, dell'Unione Europea ha aumentato il budget disponibile per la ricerca nei prossimi sette anni per la ricerca agricola da meno di 4 miliardi a 8,7 miliardi di euro, quindi più che duplicato, per trovare nuove molecole, quando parliamo di prodotti antiparassitari, di trovare nuovi macchinari per andare verso un'agricoltura più sostenibile, più di precisione, quindi sensori, tecnologia digitale, tecnologia anche satellitare, dobbiamo pensare cosa facciamo con i new breeding techniques, che facciamo con CRISPR-Cas, non possiamo in Europa semplicemente dire, beh, facciamo finta di niente, è una tecnologia che quest'anno ha preso il premio Nobel, quindi perfettamente accettata in medicina, cominciamo a riflettere se nuove tecnologie di breeding ci permettono di avere piante più resistenti che hanno bisogno di meno trattamenti, o piante che forse hanno bisogno di meno fertilizzanti, quindi dobbiamo fare tutto questo con una visione, diciamo, che guarda, che crede nella tecnologia e crede nel futuro. Io penso che se questo è l'approccio, questa strategia può anche dare un contributo positivo, perché io sono, se lo vedo dall'altra parte della medaglia, io sono anche convinto che è vero che oggi il, diciamo, il comportamento alimentare che abbiamo oggi non è sempre sostenibile nella lunga durata, quindi una riflessione su cosa mangiamo, su come mangiamo e su come portiamo valore nella catena alimentare è un ragionamento giusto che alla fine aiuta anche l'agricoltore, perché io penso che se aumenta, diciamo, il, come dire, la disponibilità della gente ad investire in alimentazione, questo può essere o deve essere per forza positivo per tutti, per tutti i settori della catena, più soldi sono nella catena, più soldi sono da distribuire, io spesso come le macchine, no, e se la gente, se tutta la gente vuole comprare Mercedes piuttosto che Peugeot, questo non è un problema per la macchina, per l'industria e le macchine, più soldi entrano nell'industria meglio è, quindi se la gente è disponibile, se riusciamo a creare una situazione dove la gente è disponibile a spendere di più per l'alimentazione, per un'alimentazione anche più equilibrata, più, sana, anche più benvenga, però non può essere una situazione che poi colpisce solo unilateratamente l'alimentazione. detto questo, un'ultima, poi diventa anche troppo lungo, mi rendo conto, un'ultima riflessione di cosa succede concretamente nella prima applicazione, nel primo momento dove queste idee entrano nella politica concreta della riforma della PAC. Viviamo da poche settimane, da due settimane è iniziato un periodo transitorio della PAC, voi sapete che la vecchia programmazione è finita con la fine dell'anno prossimo, l'anno scorso scusate, per due anni, quindi quest'anno l'anno prossimo avremo un periodo transitorio dove cambierà poco sostanzialmente soprattutto per gli agricoltori cambia qualcosa per chi deve amministrare la politica perché devono essere fatte dei piani di sviluppo orale transitorio, però per gli agricoltori rimane in questi due anni più o meno tutto come prima, con un po' in una situazione particolare perché probabilmente sapete che quasi 8 miliardi di euro sono partiti dal recovery fund tra Next Generation EU e sono andati verso il piano di sviluppo orale dei quali anche l'Italian diciamo un'ottante e questi soldi dovranno essere utilizzati nei prossimi due anni quindi quest'anno e l'anno prossimo anche con un chiaro obiettivo che devono essere utilizzati per innovazione e per sostenibilità quindi anche progetti diciamo di innovativi anche di agricoltura di precisione e così via ci sarà una particolare diciamo opportunità nei posti in questi due anni perché gli stati membri le regioni in Italia hanno a disposizione questi extra soldi da parte del Next Generation EU che dovranno utilizzare per questi obiettivi però per il resto la vera riforma inizierà speriamo perché non abbiamo i regolamenti approvati definitivamente col primo gennaio del 2023 dove sicuramente l'argomento più importante quando parliamo di sostenibilità è il nuovo approccio del primo pilastro quindi del pagamento diretto dove il primo pilastro il pagamento diretto verrà scisso in due diventerà una prima parte che è un premio base e una seconda parte i cosiddetti eco-schemes e in questi eco-schemes questi eco-schemes serviranno per favorire la sostenibilità dell'attività agricola quindi diventano quasi o molto simili ai programmi agroambientali che conosciamo oggi dal secondo pilastro del piano di sviluppo orale della PAC il Parlamento si è espresso una diciamo una percentuale del 30% del primo pilastro che va in questa direzione il Consiglio dice 20% quindi però sarà tra il 20 e il 30% quindi è una porzione importante dei fondi del primo pilastro che sono la gran parte della politica agricola comune che andranno in questa direzione quindi se lo vediamo a livello europeo dove il primo pilastro monta più o meno poco più di 40 miliardi se fossero 30% come ha detto il Parlamento ogni anno a livello europeo 13 14 miliardi di euro andrebbero in programmi specificatamente diciamo destinati a migliorare la sostenibilità dell'agricoltura quindi è un contributo importante anche se dagli NGO qui a Bruxelles e altrove anche in Italia siamo stati fortemente criticati addirittura la buona Greta Thunberg si è messa che questo appongio della nuova PAC non sia sufficientemente sostenibile io penso che oggi sono poche politiche in Europa che investono 10-15 miliardi di euro all'anno in un diciamo appongio di sostenibilità al quale si aggiunge poi il 35% del secondo pilastro quindi altri 7-8 miliardi all'anno quindi a mio avviso questa suddivisione del primo pilastro in premio base e ecoschips diventerà il più grande vettore diciamo per sostenere la sostenibilità in agricoltura per poi andare al secondo pilastro dove più o meno rimarrà in piedi quello che abbiamo oggi per i programmi agroambientali l'aiuto al biologico che conosciamo già oggi con l'impegno del 35% per la sostenibilità delle produzioni però lì non è un grande problema perché se io vedo i piani sviluppo rurali degli italiani che oggi delle regioni italiane e delle province autonome che oggi già esistono o negli ultimi anni più o meno eravamo già a questo livello e comunque anche se a mio avviso sarà difficile raggiungere l'obiettivo del 25% della superficie di biologico ma comunque il biologico aumenterà quindi aumenterà anche l'impegno per il biologico nel secondo pilastro della PAC quindi non ci sarà la grande differenza diciamo nel secondo pilastro il vero volano di cambio nel primo pilastro dove cambia veramente il concetto io Gian Paolo mi fermerei anche qui perché sto chiacchierando ci ha lungamente forse più come hai detto tu all'inizio che facciamo qualche domanda o qualche riflessione vostra sì innanzitutto ti ringrazio sei stato come anche l'altra volta molto concreto e chiaro io propongo come piattaforma non abbiamo limiti di orario quindi l'unico limite è un po' il tuo Herbert poi dopo è ora di pranzo quindi abbiamo solo un limite che ci poniamo noi come dal puntista del tempo io direi proporrei proprio per una questione di ordine io ti faccio due domande specifiche che come ti ho accennato sono già venute fuori in questi giorni che abbiamo preparato la riunione poi proporrei a chi vuole intervenire di scrivere il proprio nome nella chat e poi di fare però la domanda a voce perché io non voglio fare quello che legge le domande quindi uno nella chat dice vorrei fare una domanda e poi interviene però con ecco do io la parola per una questione semplice di ordine di priorità e di ordine quindi io ripeto adesso faccio due domande ma chi vuole intervenire o fare domande lo può scrivere e volentieri le due domande sono molto concrete e sono una proprio nell'agenda della nuova agenda dei consumatori a pagina 8 in inglese io non sono un grande anglopilo però c'è scritto chiaramente che la commissione vuole dare la possibilità attraverso il labeling attraverso le etichette del food degli alimenti la possibilità anche di fare una valutazione ambientale siamo in piena discussione sul semaforo rosso verde dal punto di vista diciamo dietetico che non mi interessa adesso adesso la mia domanda che idea hai tu o che che cosa bolle in pentola rispetto a quella che è l'etichettatura ambientale sul food sugli alimenti la prima domanda la seconda domanda ti chiederei ma proprio questa mi è stata chiesto ma anche per una mia insomma faccio non elasticità mentale il rapporto della next generation EU con IPSR 21-22 mi sembra capito che come un sovra un'aggiunta di risorse se ho capito bene però ripeto se ci chiarisci il rapporto fra questa next generation e poi se ascura una terza ma proprio per chiarezza anche come cittadino del discorso di questo benedetto recovery fund cioè se il recovery c'entra con l'agricoltura o no ecco queste tre domande sintetiche ripeto se ne fa tempo qualcuno scrive volentieri dopo siamo prego sì sull'etichettatura io penso che siano sostanzialmente tre cose che girano in questo momento una questa della valutazione ambientale tramite l'etichettatura che forse è quella meno concreta di tutti dove almeno io non ho visto nessuna proposta concreta cosa si vorrebbe fare se questo diventa un'etichettatura di un carbon o l'idea di fare un carbon footprint o perché valutazione ambientale può essere tante cose cioè può essere l'emissione di CO2 ma possono essere tante altre cose c'è una forte pressione della presidenza tedesca nell'Unione Europea per l'etichettatura del benessere animale questo parte anche diciamo dal fatto che in Germania c'è all'interno della Germania c'è già un'iniziativa non obbligatoria però diciamo di accordo tra le associazioni agricole e la distribuzione per questa etichettatura di benessere animale e la ministra Kirchner che è la presidenza dell'agri-fish quindi del consiglio dell'agricoltura e ha spinto molto in questa direzione con poco entusiasmo degli altri di qualche altro stato membro tutto quanto si è poi per adesso fermato in un documento del consiglio dove il consiglio ha invitato la commissione a riflettere sull'argomento a proporre qualcosa però non c'è niente di veramente concreto anche di indicatori come questo questo etichetto dovrebbe essere fatta quella la questione sicuramente più spinosa anche perché deve essere a mio avviso deve essere veramente affrontata la questione dell'etichettatura diciamo Nutri-Score per capirci a se marco perché qui alcuni stati membri hanno semplicemente messo dei fatti cioè la Francia io vedo anche qui in Belgio ormai Nutri-Score è anche supportato tantissimo dalle catene di distribuzione sono le catene di distribuzione che dappertutto non mettono questo Nutri-Score e a mio avviso c'è bisogno di un accordo europeo cioè dobbiamo decidere se lasciamo andare avanti gli stati membri ognuno fa quello che vuole o se troviamo un approccio europeo io devo dire mi rendo conto che l'etichiatura l'etichiatura a volte deve essere semplice perché il più grande problema nella nutrizione spaliata o squilibrata in Europa non abbiamo nelle scusate non voglio fare qui una questione di qualità di educazione però nelle fasce educate più alte lo abbiamo nelle fasce più basse anche spesso in fasce veramente marginali cioè migranti e così via e quindi che lì ci sia un approccio semplice facilmente intuibile e giusto tra l'altra parte a mio avviso il Nutri-Score così come oggi è troppo facile e essendo troppo facile diventa anche troppo come dire a volte fuori varianti perché se per esempio vi faccio un esempio se la commissione dice nella Farm to Fork che bisogna evitare l'over-processed food cioè i prodotti alimentari trasformati fortemente però però nello stesso momento dici che serve un sistema Nutri-Score per forza favorisce l'over-processed perché cosa fa l'industria? L'industria sa benissimo come portare un prodotto da rosso verso arancione verso verde e lo fa con un processo di trasformazione di processing quindi e se io vedo qui faccio sempre l'esempio qui nel supermercato che sta sotto casa mia se io vedo il gelato che è sull'arancione e rosso gelato sotto nel frizz e vicino c'è un gelato verde cioè Nutri-Score verde e comincio a vedere ma perché è verde questo allora è talmente over-processed che è diventato verde perché è over-processed perché ci hanno buttato delle fibre però hanno buttato delle fibre solo perché per raggiungere il verde cioè non hanno buttato fibre perché il gelato diventa più buono o più sano l'hanno messo per portarlo al verde hanno tolto i zuccheri hanno messo altri dolcificanti quindi io questo gelato verde non me lo mangio perché secondo me non è sano per niente quindi io non sono tra quelli che dicono Nutri-Score va malissimo è tutto spadiato però c'è comunque un certo rischio e l'ultimo rischio che forse sono un po' troppo cattivo però questa idea che abbiamo nella nostra nella nostra civiltà dire un prodotto alimentare è buono se non contiene calorie è un concetto di lusso perché fino a prova contraria ci alimentiamo perché ci fa piacere però anche perché abbiamo bisogno di calorie e dire che un prodotto è buono perché non contiene calorie dire che per esempio un latte intero è meno buono di un latte parzialmente scremato è semplicemente una folia perché il fatto se io prendo troppe calorie non dipende se io bevo il latte intero o scremato dipende quanto ne bevo e quanto ne mangio e quindi la situazione è molto più complicata di dire questo è un prodotto buono questo è un prodotto meno buono dipende da tanti fattori Next Generation EU posso fare molto ripeto quello che ho detto prima nella fase finale nel famoso vertice di metà luglio di quello dei 4 giorni alla fine si è deciso che quasi 8 miliardi del New Generation EU e quindi di questi 750 miliardi vanno nei piani di sviluppo orale questo anche perché nella prima proposta per il bilancio per la politica ricco e comune c'era un taglio importante ai piani di sviluppo orale quindi si è voluto fare questa operazione finanziaria quindi questi 7,5 8 miliardi adesso sono disponibili e devono essere entro nel periodo transitorio quindi nel prossimo due nell'anno 21 22 e devono essere spesi con i principi del Next Generation EU che in Italia conosciamo bene perché addirittura è caduto un governo su questo quindi gli obiettivi di sostenibilità di innovazione cioè quei criteri che valgono anche per tutto il resto del Next Generation EU devono essere spesi nell'ambito dei piani sviluppo orale quindi sostanzialmente diventano fondi aggiuntivi dei piani sviluppo orale transitori che le regioni dovranno fare il recovery fund è una parte del Next Generation EU è la parte più importante centra di per sé poco con l'agricoltura però è nelle mani degli stati membri quindi gli stati membri devono dire cosa vogliono fare col recovery fund potrebbe in teoria anche utilizzarlo non lo faranno perché abbiamo visto anche in Italia verrà utilizzato per grandi infrastrutture ospedali e così via perché gli stati membri riterranno che per l'agricoltura ci sono altri fondi come per esempio il recovery fund però l'utilizzo del recovery fund è nelle mani degli stati membri fin quando gli stati membri rispettano i criteri fissati dall'uso del recovery fund ok benissimo chiaro allora nel frattempo non sono arrivate domande però da buon tecnico scientifico essendo se facciamo una correlazione fra la costanza degli iscritti che sono rimasti collegati il fatto che non ci siano domande è un segnale del fatto che sia stato chiarissimo non che ci sia stato poco interesse in quanto ripeto gli iscritti sono rimasti costanti per tutta questa ora che abbiamo trascorso insieme quindi visto che appunto abbiamo tra tutti tante cose da fare ah no scusate scusate adesso si è alzata una mano quindi come ho già detto prima la fa lui direttamente e passo la parola a Giuseppe Cornetti agricoltore allevatore e presidente di di Cabre una cooperativa di trasformazione dell'arte prego Giuseppe sì grazie a tutti buongiorno sono tempestivo vorrei richiamare un argomento che lei prima aveva sviluppato per quanto riguarda il sequestro del carbonio dove ha fatto delle sottolineature dicendo che sarebbe utile esporre a chi emette che debba quindi pagare e riconoscere invece chi è in grado di poter sequestrare il carbonio parlava quindi poi dell'humus io andrei oltre noi abbiamo dei suoli che in questi anni sono stati impoveriti drasticamente del carbonio ma abbiamo da azotecnici e quindi da allevatori una potente leva con la quale reintrodurre carbonio al suolo ovvero attraverso i reflui palabili quindi posto che noi abbiamo questa risorsa che può essere utilizzata e che porta in sé una grande quantità di carbonio non solo da renderlo disponibile in forma umica che immediatamente poi verrebbe per chi sa di patologia utilizzata dalle culture in atto ma produrre un effetto ricalcitrante al carbonio ma tale che rimanga nel tempo tesorizzato nel suolo ritengo che il letame possa essere premiato da qui nei prossimi anni e ritengo che possa essere una buona pratica da caldeggiare e quindi favorire anche nell'ambito agricolo una diversa produzione di reflui andando in questa indirezione però premiando chi fa questa attività che per certi aspetti oggi è stata forse messa nell'orbita delle agroenergie sulle quali non mi vorrei prolungare però direi se possiamo favorire questa pratica ritengo che sia utile sia all'ambiente ma anche agli allevatori che possono metterla in atto grazie scusa Herbert perché nel frattempo forse mi era sfuggito mi chiedo scusa ho visto che anche Giuseppe Bertoni ha alzato la mano per fare una domanda e quindi gli cedo volentieri la parola Giuseppe se vuoi parlare grazie grazie sia a te dottor Bilato che al dottor Dorfman che saluto perché è un nostro laureato qui di Piacenza e volevo intanto diciamo complimentarmi con lui perché ha fatto anche un preambolo molto importante e è proprio su questi aspetti che vorrei brevemente richiamarlo cioè al fatto che da un lato noi abbiamo bisogno di tenere presente che nella sostenibilità non ci sono soltanto gli aspetti economici ecologici e etici ma c'è anche l'aspetto salute e nutrizione dell'uomo e all'interno di questo bisogna sempre ricordare che una quota e lui ne ha parlato bene diciamo correttamente con riferimento all'obesità però va diciamo così mantenuto alto il livello della importanza degli prodotti di origine animale all'interno di una dieta corretta naturalmente nelle giuste proporzioni per non eccedere il secondo aspetto importante che si collega a varie cose che lui ha detto è quello della produttività è chiaro che nel momento in cui si tende a privilegiare l'aspetto biologico e a un certo senso penalizzare gli aspetti tecnologici è chiaro che la produttività può esserne fortemente ridotta ma perché la produttività è importante non soltanto al nostro interno ma anche perché se noi riduciamo eccessivamente la produttività aumenta la quota di ciò che dobbiamo acquistare all'esterno della comunità europea e questo in particolare nei paesi meno sviluppati dove la bassa efficienza produttiva porta più facilmente ad aumentare il rischio di deforestazione di quanto non sia il vantaggio economico che possiamo dare a loro ecco in questo ambito cioè vorrei che la comunità europea nel suo obiettivo certamente giustissimo di un green deal tenga conto in maniera dovuta anche di questi aspetti cioè da un lato l'importanza che hanno i prodotti origine animale per la salute dell'uomo nella giusta misura e dall'altro che è opportuno non penalizzare più di tanto la produttività legata alle tecnologie per non pregiudicare da un lato le produzioni europee ma dall'altro anche aggravare il rischio dell'emissione di CO2 e non soltanto diminuirlo grazie comunque a tutti grazie a te professor Bertone Herbert se sei d'accordo io nel frattempo ho alzato la mano anche Elisabetta Quaini allevatrice di Vacche da Latte del Cremonese molto brava all'altro e chiedo a lei se vuole intervenire direttamente eccomi io volevo sapere allora io sono molto preoccupata nel senso che ormai in tutte le trasmissioni televisive anche ieri sera sono rimasta quasi fino a luna alzata troviamo giornalisti troviamo riprese di allevamenti cosiddetti intensivi di cui io sono una fiera rappresentante però troviamo delle notizie distorte e spesso anche volutamente accentuate negli aspetti negativi quindi direi che c'è quasi una campagna contro la nostra attività ed allevatore sono seriamente preoccupata perché gli sforzi per comunicare un'immagine positiva l'agricoltura non ne sta facendo granché non abbiamo investito risorse in comunicazione e vediamo cioè facciamo fatica a vedere uno sviluppo positivo di questo benedetto farm to fork peraltro io sono convinta e i dati ce lo dimostrano che il consumatore destina direi gran parte del suo reddito per strumentazioni elettroniche o moda o altre cose mentre l'alimentazione diciamo che è quasi residuale quindi si vuole spendere sempre meno magari andare al ristorante prima potevamo andare siamo disposti a pagare di più ma a casa si cerca di risparmiare quindi c'è una rivoluzione anche dal punto di vista culturale dei consumatori da mettere in campo per cui la vedo sicuramente come l'ha descritta una cosa positiva perché la filiera ha bisogno che il consumatore apprezzi i prodotti ma io sempre il sospetto che in realtà noi veniamo da anni in cui la politica ha deciso che il cibo doveva costare poco questa è la mia grande preoccupazione diciamo è più uno sfogo che una domanda però faccio fatica a mettere insieme queste cose cioè la rivoluzione deve partire dalle aziende ma secondo me le associazioni dei consumatori che vogliono fortemente queste leggi dovrebbero fare un'autoanalisi e cominciare a investire su quello che è l'educazione dei propri associati quindi le persone dovrebbero per prima cosa mettere il cibo in prima posizione lasciar perdere la moda e gli smartphone e altre cose come è la realtà di oggi per cui queste cose bisogna anche dirle vi ringrazio per l'ascolto grazie grazie a lei dottoressa allora da punto di vista organizzativo siccome sono arrivate altre due domande chiederei a Herbert di cominciare a rispondere o commentare queste prime tre interventi e poi dopo ce ne sono altri due sempre se tu hai tempo Herbert dici tu sei dei limiti di orario prego Herbert sì ancora 20 minuti poi devo lasciarvi perché devo andare in un'altra riunione no io penso che queste tre domande le prime due sono molte anche conesse tra di loro io sono signor Cornetti ti do perfettamente ragione io penso che su tanti argomenti noi dobbiamo diventare più attivi anche nella comunicazione e quello che ho detto prima è che cominciamo anche a dire se noi diamo un contributo positivo del quale spesso la gente non se ne rende conto perché chi non è chi non sa cos'è un terreno chi non sa cos'è un humus non si rende conto che nell'humus c'è carbonio quindi bisogna spiegarlo alla gente e secondo me l'agricoltura a volte io ci vedo anche soprattutto noi in politica molto conservatori dico no è tutto anche l'associazione agricola spesso è tutto complicato tutto burocratico però dico ma perché per esempio se diamo un contributo positivo se noi assorbiamo l'agricoltura io no perché non ho non ho vacca a casa mia però se se qualcuno se se un'azienda assorbe carbonio perché non ce lo facciamo pagare e la stessa questione è del dei reflui e noi dobbiamo mettere in utile che diciamo che è tutto bello noi abbiamo avuto purtroppo negli ultimi anni una concentrazione del allevamento animale in Europa con un notevole problema sui reflui e anche su quello che lei ha detto su un uso diciamo positivo dei reflui perché se abbiamo una concentrazione enorme della produzione di latte nel nord della Germania nei paesi bassi e in Danimarca abbiamo perso praticamente la zootecnia nei cosiddetti nuovi stati membri questo è un problema perché oggi i reflui vengono trasportati col treno dai paesi bassi verso qualcuno in Germania che li vuole utilizzare e questo è creando problemi sulle falde con i tritti ed altro e noi dobbiamo ammettere questo problema io l'ho detto anche nel secondo me un giusto carico bestiame sarebbe il primo passo in avanti per avere una produzione zootecnica sostenibile e questo non significa come la signora Coini ha detto che non c'è spazio per l'allevamento intensivo l'allevamento intensivo va benissimo fin quando l'azienda agricola che sta dietro si trova in un sistema di sostenibilità quindi di sostenibilità nella lunga durata dove i terreni che ha possono anche assorbere i reflui che produce e dove questi reflui possono dare anche un contributo positivo alla fertilità dei terreni o comunque qualcun altro che sta nelle vicinanze quindi qui qualcosa c'è da fare dobbiamo comunque evitare che questa concentrazione che purtroppo oggi abbiamo vada avanti perché sennò mi fa veramente piacere vedere il signor il signor professore Bertoni qui tra di voi perché tra l'altro mi ha dato un bel voto 30 anni fa e sono stato uno dei fruitori del suo corso interessantissimo al suo tempo sono passati un po' di anni siamo diventati più vecchi però no io non posso non posso dare più che 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 ragione su quello che ha detto sull'alimentazione animale poi ognuno si prende la sua scelta se uno vuole essere vegetariano o vegano non aspetta a me dire va bene o va male però diciamo che ci sia che ci sia diciamo un valore nell'alimentazione diciamo animale non non dobbiamo non c'è dubbio però per me è più importante ancora più importante un'altra riflessione noi anche sulla sull'emissione di CO2 spesso siamo molto superflui soprattutto quando si parla di produzione animale diciamo dicendo per esempio che io vedo delle 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 riviste dei giornali ma anche addirittura anche i scienziati poi professore non si offenda perché sicuramente non lei però addirittura scienziati che dicono un chilo la produzione di un chilo di carne produce tot emissione di CO2 il litro di latte produce tot emissione di CO2 ma la bella differenza se io ho una vacca che sta al pascolo per esempio a casa mia in montagna adesso esagio da una in una parte e mi mangia l'erba del pascolo e mi crea una situazione dove questo pascolo continua a fare fotosintesi che altrimenti non farebbe più perché se non c'è nessuno che usa questa erba lì non cresce più niente e quindi mi dà addirittura questo animale mi dà addirittura un contributo positivo per quanto riguarda le emissioni di CO2 o un'altra vacca che sta in stalla e alimentata tutto l'anno col soia del pasile sono due cose completamente diverse quindi bisogna anche un po' vedere come viene fatta questo allevamento e quindi le cose sono un po' più complicate di quanto spesso si dice poi la produttività beh sicuramente io penso che qui questo dilemma della pandemia Covid ha poco di buono purtroppo però una cosa buona sicuramente la gente si è resa conto per la prima volta dopo decenni che la disponibilità di prodotti alimentari non è logica cioè la mia generazione almeno io ho visto per la prima volta in vita mia scafali vuoti e e questo ha un po' diciamo secondo me non la gente non lo dimenticherà molto velocemente cioè ha visto che la disponibilità in un periodo difficile la disponibilità di prodotti alimentari anche la velocità con la quale il sistema alimentare europeo ha reagito a questa sfida e comunque ha dimostrato che la sicurezza alimentare la disponibilità alimentare è importante e che oggi abbiamo un sistema a disposizione che in una situazione di crisi come quella della pandemia comunque garantisce che la gente ha da mangiare però noi abbiamo anche una responsabilità a livello mondiale cioè noi siamo i più grandi esportatori di prodotti alimentari del mondo e se i prodotti alimentari europei non sono a disposizione in altre parti del mondo e in altre parti del mondo si soffre di fame quindi noi possiamo si dire beh produciamo solo per noi però sarebbe di poca responsabilità rispetto diciamo a una visione anche un po' più larga del sistema alimentare sì l'ultima domanda è forse il dilemma più profondo nel quale ci troviamo lo vediamo soprattutto anche in politica io direi da anni forse meno in Italia più nella parte nordica dell'Europa siamo sotto continuo attacco o l'agricoltura è sotto continuo attacco di alcuni partiti politici che permettetemi una valutazione politica per fortuna in Italia non esistono e soprattutto da parte di NGO e da parte di NGO di organizzazioni che vivono dalla critica cioè per essere chiaro io non ho niente contro NGO va benissimo però Greenpeace per prenderne una non vive dal messaggio positivo vive dal messaggio negativo cioè chi finanzia Greenpeace vuole sentire il problema non vuole sentire che le cose vanno bene e se sul giornalino di Greenpeace o di Footwatch o di altri sulla prima pagina c'è scritto che va tutto bene tutto bello la gente che è membro di queste associazioni non paga più vogliono sentire il problema e vivono del problema e questo fa parte del business di queste associazioni e ne approfittano abbastanza e diventando sempre di più diciamo l'ala l'ala diciamo della cosiddetta civiltà società civile di un gruppo politico che sono quelli di Verdi e questo è un una situazione abbastanza pericolosa perché subiamo un continuo attacco politico all'agricoltura e spesso con poca reazione da parte del mondo agricolo qui le do perfettamente ragione cioè qui bisognerebbe a volte anche contrattaccare anche se a volte è difficile io per esempio quando abbiamo dopo due anni di dibattito abbiamo votato a favore della nuova politica agricola come detto prima destinando 20 miliardi all'anno alla sostenibilità e mi viene Greta Thumper a dire che abbiamo spagliato tutto una Greta Thumper che di politica ricora sa zero proprio zero io questo non lo accetto anche se Greta Thumper non me ne frega niente non lo accetto perché io so benissimo che non lo dice Greta Thumper ma lo sa chi sta dietro di lei e quindi a volte serve anche il coraggio secondo me a dire chiaramente queste cose anche se sono associazioni diciamo che hanno soprattutto nel mondo urbano una forte sono fortemente radicati di difendere la propria posizione non dicendo che tutto va bene ma mettendo anche in evidenza che comunque l'agricoltura fa la sua parte io lo dico anche qui ritorno alla questione farm to fork io dico sempre secondo me l'ho detto prima dobbiamo portare a bordo del dibattito il consumatore però dobbiamo portare a bordo anche l'agricoltura e chi pensa che può diciamo fare questa strategia senza gli agricoltori fallirà cioè se non entriamo in una situazione dove anche gli agricoltori sostengono questa idea di sostenibilità e vengono presi sul serio perché secondo me abbiamo per fortuna ancora tanti agricoltori giovani e meno giovani che sanno benissimo fare il loro lavoro e quindi dobbiamo fare parte del dibattito perché se no sarà un fallimento totale grazie Hermes facciamo dopo i complimenti finali proprio a abusare del tuo tempo quindi farei le ultime due domande nell'ordine prima Alberto Cortesi e poi Mario Bogini Cortesi se vuole intervenire grazie buongiorno grazie di poter intervenire chiederei il gentilissimo e onorevole un suo parere la mia preoccupazione io faccio l'allevatore a Mantova e questa campagna mediatica sociale che c'è contro gli allevamenti in generale trova comunque motivo anche sul fatto che i nuovi cibi incominciano ad avere presso i consumatori cominciano ad avere comunque una pil sempre maggiore lo noto perché io sono padre ho i capelli bianchi e le mie figlie sono molto più aperte mentalmente a questi nuovi cibi ma sotto questo la mia preoccupazione è che ci sono concentrazioni di capitali fortissimi per cui il pericolo che io temo e che temiamo in generale è che si possono sostituire di fatto l'agricoltura cioè noi siamo fornitori spesso di materia prima alla grande industria ma noi rischiamo che la grande industria faccia a meno dell'agricoltura o dell'allevamento magari adesso sto estremizzando il concetto però il pericolo è questo tanto più che hanno la capacità avendo una fortissima concentrazione di capitali da un punto di vista mediatico di convincere i consumatori e qui l'avete già prima di me anche lei l'ha già accennato il fatto che noi come settore agricolo da questo punto di vista facciamo una grandissima fatica in Italia in primis perché siamo molto divisi e in molte nostre organizzazioni cooperative si stanno muovendo mediaticamente ma essendo molto divisi è anche molto difficile raggiungere gli obiettivi quindi volevo un suo parere e sapere quanto la comunità europea no come la comunità europea potrebbe così affrontare questo problema perché di fatto mina alla base l'attività agricola e tutto quello che ne consegue grazie grazie signor Cortesi per ultima domanda e poi Herber vedi te anche per le conclusioni visto che andiamo a chiudere la pone Mario Bogini dottore esperto anche di materie prime nella produzione delle materie della produzione agricola italiana e lombarda prego Mario se vuoi intervenire microfono il microfono ma il microfono adesso si adesso si grazie buongiorno a tutti mi trovo molto d'accordo con quanto hanno detto le persone prima di me Quaini e Cortesi con quanto finora è esposto il professore io vi voglio solo segnalare questo la campagna mediatica è verissimo è negativa ed è vero la signora Quaini ha usato una frase che mi ha molto colpito il cibo a buon mercato ecco voglio rispondere a questo ma a tutti il cibo a buon mercato è finito perché i mercati delle materie prime delle commodities internazionali non nazionali sono fuori controllo perché perché tratto una massa immane di finanza da parte dei fondi di investimento e stanno insieme ai potenti acquisti della Cina sbalestrando il mercato passatemi il termine sbalestrando il mercato vuol dire che avremo un mercato molto più caro per cui per un po' di mesi tutti voi produttori dovete soffrire meno i cerealisti poi con questi mercati molto più alti forse ci sarà quello spazio quel margine quel gap piccolo di guadagno in più che permetterà di agire su qualcosa nella sostenibilità quindi voglio chiudere dicendovi preparatevi a mercati più cari ma mi auguro che poi alla fine ne abbiate un ritorno anche se ci vorrà un po' di tempo grazie ti ringrazio Mario che tra l'altro col tuo bollettino settimanale sei utilissimo proprio sempre nella concretezza delle tue valutazioni ok io direi appunto non ci sono altre domande andiamo verso la chiusura quindi lascio la parola a Herbert che risponderà e chiuderà e quindi niente per i saluti e ringraziamenti facciamo dopo prego Herbert sì vedo prima di tutto sulla chat che c'è di tua Pierluigi Patanda perché siamo stati insieme al Collegio Sant'Isidoro a Piacenza quindi lo saluto da decenni che non ci vediamo più quindi l'occasione è buona di queste queste tecnologie anche per rivedere o rincontrare persone no sui nuovi cibi sì rientro un po' nella questione che ho detto prima sull'over processed food c'è se da una parte se da una parte si dice che vogliamo evitare over processed food dall'altra parte non si dovrebbe spingere queste queste tendenze perché questo è classico esempio di over processed food anche qui voglio fare una cosa che dico molto spesso ritornando ancora nella questione del cambiamento climatico e emissione di CO2 la produzione animale nel suo insieme utilizza una risorsa importantissima in Europa e nel mondo ed è il prato stabile e i pascoli tutti i prati stabili e stabili pascoli sarebbero inutili se non ci fossero animali quindi uscirebbero dalla produzione di alimenti fin quando noi uomini non cominciamo a mangiare erba però non avendo non avendo un apparato digitale che diciamo tra i grandi vantaggi sarà difficile quindi se escono i prati stabili o se uscissero i prati stabili dall'alimentazione o venissero trasformati in terreni arati questo per il cambiamento climatico sarebbe un disastro quindi si può dire sì che sotto un certo punto di vista è giusto che un'alimentazione vegetariana vegana comporta meno emissione di CO2 però solo fino a un certo punto perché se io la bistecca la bistecca me la faccio con i piselli i piselli devono crescere da qualche parte e crescono sul terreno arato non crescono ma crescono sul prato stabile quindi questo ancora per dire le cose sono un po' più complicate di quanto spesso nell'opinione pubblica vengono diciamo presentate io non vedo sinceramente nel breve periodo un successo di questi cibi diciamo fatti in laboratorio perché a mio avviso c'è anche un problema di costo comunque non indifferente e anche di per fortuna le do ragione che c'è un appongio diverso delle giovani generazioni anch'io ho figli che diciamo in questa età però sì fino a un certo punto direi perché io penso anche questo è dimenticato a dire prima riflessione su quello che ha detto la signora Quaglini io penso che sono anche diciamo non sarei tanto pessimista io penso che nelle nostre nella nostra diciamo società cresce l'apprezzamento per prodotti di qualità non è ancora un fenomeno di massa però se andate a vedere nel supermercato cosa vendono nel supermercato io vedo sempre prodotti particolari di alta cioè di locali con denominazioni crescono in Europa le denominazioni d'origine se andiamo a vedere cosa esporta l'Unione Europea all'i fuori dell'Unione Europea la fascia di prodotti a denominazione d'origine è altissima soprattutto se andiamo a vedere l'esportazione italiana sono i formaggi i grandi formaggi di denominazione d'origine della vostra zona i vini quindi c'è una crescente sensibilità anche dei giovani tanti giovani ha un'alimentazione diciamo più attenta e questa fascia che ancora non sarà massa perché la massa è ancora da un'altra parte secondo me può creare un plus valore per l'agricoltura e può creare mercati interessanti io penso tra l'altro per il resto dell'Italia perché se l'Italia ancora ha un segmento dove è famoso in tutto il mondo non sono più le macchine o i macchinari l'unico segmento dove oggi l'Italia è veramente famosa in tutto il mondo fino all'ultimo angolo di questo pianeta è il mangiare ed è ed è famosa per mangiare perché ha prodotti di alta fascia cioè non è famosa perché produce il latte in polvere è famosa perché produce altri prodotti quindi io penso che passi in avanti facciamo forse la strategia farm to fork in questo vorrei anche concludere dà un contributo in questo senso e diciamo dà una spinta in questa direzione che sarebbe sicuramente nell'interesse degli agricoltori di tutta la filiera su quello che il signor Bogini mi ha detto non vorrei dire niente perché lo suo è stato un intervento diciamo di molta più esperienza di quanto l'ho io è chiaro che oggi i mercati i grandi mercati anche diciamo dei mercati diciamo prettamente finanziari hanno un ruolo importantissimo ma penso che lei abbia detto spiegato molto meglio di quanto lo potrei spiegare io quello che sta succedendo quindi vi ringrazio io purtroppo adesso devo saltare in un'altra riunione alle meno un quarto quindi vi devo lasciare comunque grazie per per l'incontro che è stato veramente interessante grazie ancora grazie a tutti dico solo che la registrazione sarà disponibile e che stiamo organizzando nuovi appuntamenti in cui sempre sul tema della sostenibilità e di cui verrete aggiornati con i soliti modi grazie ancora a tutti e buona giornata grazie a tutti